Il nostro palinzesto perché si sta per arricchire di una produzione davvero innovativa e interessante per l'Abruzzo. Ne parliamo con Federica Peluffo, ben rivista. Ben rivista, direttore, ben rivista a tutti voi. Bentornata negli studi, non direte ottimo, nel nostro TG e con lei c'è anche Piero Mazzocchetti. Bentrovati, è un piacere. Ben rivisti. Allora, parliamo dei Dreams, ormai se ne parla già tanto sui giornali, sui social, anche su Retevato abbiamo fatto alcune presentazioni, ma vogliamo ancora ripetere ai nostri telespettatori cosa sta per accadere Federica. Esatto, sta per accadere che stiamo per partire. Sono arrivate tantissime iscrizioni perché vi ricordo appunto che il 29 e il 30 di ottobre ci saranno le selezioni. Le selezioni che riguarderanno tutti coloro che si sono iscritti e che hanno mandato email e curriculum presso i nostri numeri e soprattutto le nostre mail. E verranno selezionati perché? Perché i posti sono soltanto 20. 20 i concorrenti che parteciperanno in questo nuovo programma per Rete8, appunto Dreams, un sogno, i sogni di far diventare quella che è una passione magari un vero e proprio lavoro, come abbiamo qui l'esempio di Piero Mazzocchetti. Piero, cosa dovranno essere capaci di fare gli aspiranti partecipanti? Cosa pensano di saper fare già e che magari potranno anche perfezionare durante questa avventura televisiva? L'Abruzzo ha un bacino di talenti straordinario nel canto soprattutto ed è la prima volta che si apre un talent importante che dia la possibilità ai ragazzi anche di formarsi non solo un palcoscenico per l'esibizione finale ma dare la possibilità davvero di crescere e di essere avvincenti e di poter approdare poi chi ha le ali per spiccare nei talent plasonati nazionali. Quindi è davvero un momento importante dove noi ci uniamo, ci mettiamo la nostra esperienza, il nostro amore per la nostra regione e cerchiamo di evitare che per forza di cose i talenti nostrani debbano emigrare in realtà lontane. Lascio a te l'annuncio che adesso diamo per la prima volta in diretta alle 14.40 sul Rete8 del grande colpo che ha fatto Dreams ancora prima di cominciare. Il direttore dei casting del 29 e 30 ottobre che si terranno a Montesilvano è il maestro Beppe Vessicchio, grande pioniere dei talent, grande maestro, tutti lo conoscete, lo conosciamo, un grande amico, è davvero una personalità importante di spicco nella musica e di riferimento per i ragazzi. Bene, quindi nasce davvero sotto una buona stella. A proposito di stelle, quale sarà Federica il funzionamento poi anche della gara che si svolgerà tra gli aspiranti? Hai detto la parola giusta, stelle, no? Perché ci saranno appunto, è un talent, quindi come ogni talent che si rispetti ci sono delle votazioni, quindi questi ragazzi dovranno esibirsi per ottenere una sorta di votazione che gli verrà data in ogni esibizione, in ogni serata. Al contrario degli altri talent, noi non elimineremo nessuno nel corso della stagione, ma li porteremo tutti e 20 fino alla fine, ma naturalmente ci sono sempre delle difficoltà. Come ci sono delle difficoltà, però ci sono anche delle note positive e verranno assegnate appunto delle star, delle stelle d'oro e delle stelle nere per coloro invece che magari hanno dei voti negativi oppure hanno dei provvedimenti disciplinari, no? Perché parliamo sempre di ragazzi che dovranno comunque convivere, se vogliamo, in un talent, no? In una trasmissione. Quindi sicuramente ci saranno tante stelle d'oro, ma ahimè, lo so, già lo so che ci sarà anche qualche stellina nera. Ecco, Piero se tu fossi dall'altra parte, quella di un aspirante cantante che vuole provare questa strada, tu che fai formazione da anni in questo settore, ecco, quale consiglio ti daresti? Tanto la crossover academy, che la nostra accademia, dà la possibilità sia logistica che tecnica che artistica di poter formare i ragazzi e quindi creare delle classi, di creare anche dei momenti virtuali e multimediali di interazione anche con il pubblico che è a casa. Il consiglio è quello sempre di essere se stessi, di prendere la musica, il canto in questo caso, dai 14 ai 35 anni, la fascia d'età che stiamo ammettendo ai casting, di essere se stessi e di non essere imitatore di nessuno, perché ognuno di noi ha una certa artisticità e un talento. Dio a tutti ha dato un talento, ma la fortuna più grande è quella di esserne consapevoli e di metterlo in pratica. Noi naturalmente seguiremo sulla nostra rete tutti questi casting, insomma un po' di backstage, tanti altri spazi di approfondimento, ma quando andremo in onda Federico e soprattutto poi ti chiederò se nell'ultima puntata, quando ci sarà la proclamazione di chi avrà vinto, sarai anche tu a cantare qualcosa? Direttore! Sì, io a presentare. Io, ecco, Piero potrebbe presentare, ma io vi giuro non posso proprio cantare, insomma fidatevi di me, tanto per usare insomma una parola familiare. Sì, confermo che è meglio non farla cantare. Quindi no, no, io mi limiterò a presentare, però partiremo appunto su Rete 8, sempre alle ore 21 di domenica, quindi dal 7 novembre, la prima puntata dove manderemo in realtà una sorta di sunto di tutto quello che accadrà, insomma in queste due giornate di selezioni, per poi ufficializzare eventi concorrenti nella primissima puntata che faremo quindi qui in studio, proprio nello studio 1 di Rete 8, che sarà appunto la domenica successiva, domenica 14 novembre. Abbiamo dimenticato qualcosa? Assolutamente no. Siamo stati bravi. Ti aspettiamo. Allora, ragazzi, mi raccomando, vi incoraggiamo a partecipare, vi incoraggiamo anche a non prendervela, se non doveste farcela all'inizio, però le selezioni saranno assolutamente serie e rigorose, con una bacchetta di direttore d'orchestra di assoluto prestigio e di assoluta indipendenza, Peppe Vessicchio, che sarà annunciato oggi proprio in questo telegiornale, il patron di queste selezioni. Grazie a tutti voi. Grazie a noi di Rete 8, perché si arricchisce il nostro valinzesto anche con questa bellissima nuova produzione. Grazie a tutti.